Buongiorno amiche e amici di Aesthetic Summer News, questa mattina la news riguarda le staminali, argomento che come sapete per me molto molto importante perché noi siamo uno dei centri all'avanguardia in Italia e nel mondo sullo studio proprio delle staminali mesenchimali per l'utilizzo in campo estetico grazie ai nostri lavori apprezzati appunto in tutto il mondo su riviste scientifiche internazionali. Bene abbiamo parlato in un'altra puntata del PRP dei fattori di crescita, chiariamo cosa sono le staminali, le staminali sono piccole cellule che possono differenziarsi in altre cellule che si trovano principalmente nel midollo osseo ma soprattutto nel nostro tessuto adiposo, ecco quindi che il tessuto adiposo è diventato una banca ricchissima di cellule staminali che ci serve per attraverso tecniche poter essere riutilizzate nel nostro organismo e in particolare nel viso per tutti i processi di ringiovanimento. Queste cellule attraverso la nostra tecnica SEFI e Michael SEFI vengono estratte dal tessuto adiposo e poi riniettate nel viso, questo è il vero elisir della giovinezza, ecco perché oggi possiamo parlare di lifting con le staminali ma di questo ne parleremo in un'altra attraverso il nostro organismo. Grazie a tutti.